Riparare è un riscatto per me. Volevo un po' di tempo per me e me lo sono preso. Lasciavo la ragazza che avevo, lasciavo il lavoro che avevo, lasciavo tutto, tutto, per finire per strada, per starmene per incarsi via. Poi magari entri che hai un'idea e esci che in realtà hai perso quell'idea e ti ritrovi con degli strumenti e poi diventa quella la filosofia. Ti farei venire alle due, facciamo solo il pomeriggio. Ok, però tu entri e hai l'impressione che questo posto sia un bunker. Un po' la vive come se fosse una cosa che gli piomba addosso. Un po' dovrebbe capire di più che in realtà lui è artefice di questa cosa che gli piomba addosso. Tanto è vero che quando la vedevo mangiare i panini per strada gli dicevo e poi appaghiamoli in sti sensi. Ti senti? Non ti ricordi? Via, 400 euro di bicicletta a buttare. Continua a salire il prezzo! Non vedo qui. Non vedo qui. No vedo qui. Non vedo qui. Non vedo qui. Quello che ci porta Bike Ride in seno non è la città dei ciclisti, è una città che il cui centro è la persona. I cittadini del futuro mi, ma in realtà ci ringrazieranno se riusciremo ad ottenere dei risultati.